1, 2, 3 ai Blumi Eccoci qua, eccoci qui, il sabato notte dinner and dance del convento di Lonato di Brescia Siamo in compagnia di questi 4 amici, i 4 dell'Ave Maria Che si chiamano, vai, vicino al micro Mirko Mirko Ele Alessio Gianni Ok, Gianni da dove venite ragazzi? Bolzano Da Bolzano E so che festeggiate due compleanni Che sono? Di Matteo e di Davide Di Matteo e Davide Che anche in questa circostanza non vengono a cantare Si vergognano, sono timidi Assolutamente no Però scegliendo, avendo sentito le canzoni che avete scelto adesso e prima Ho capito perché si vergognano No scherzo Allora, che canzone volete cantare? 4 dell'Ave Maria Vai Ok Prego, prego La componente maschile ha deciso di cantare Hot and Cold di Katy Perry Ok, capito Propri maschi Propri maschi Lei ha detto Lei mi ha detto 8 artisti dove le prime due lettere erano OK o J Ok, pronti a cantare? Non vi faccio le domande perché io non la so neanche Quindi non ce neanche più E' una bella Non ce neanche più Quando è finita chiamatisi che non siamo io tutti Ehm... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti